L'Università degli Studi di Urbino in collaborazione con Confindustria ha presentato l'iniziativa Sportello Imprese, un servizio dedicato a fornire supporto e consulenza alle imprese locali sulle opportunità di finanziamento regionale, nazionale ed europeo. L'apertura dello Sportello Imprese rappresenta un ponte diretto tra l'Ateneo e il tessuto imprenditoriale, fondamentale per stimolare la crescita e l'innovazione nel territorio marchigiano. Già la nostra esperienza scouting su tutti i bandi che ci sono, dove ci aiuterà in particolare l'azienda che ci supporta e insieme all'impresa troveremo i bandi che coinvolgono entrambe le realtà, quindi insieme a Confindustria, in modo da poter poi arrivare a questi bandi, a questi finanziamenti, che generalmente riguardano, in particolar modo essendo a che fare con l'impresa, l'innovazione e l'aumento, diciamo, il miglioramento della tecnologia per l'impresa. Il rapporto con le imprese è sicuramente una priorità per il nostro Ateneo, appunto perché permette agli studenti di trovare degli sbocchi lavorativi, permette anche di vedere dal punto di vista degli studenti quali sono le condizioni che un imprenditore deve affrontare per essere imprenditore, quindi non ne parliamo solo in logica di occupazione ma anche in una logica di imprenditorialità per gli studenti e oltre a questo c'è il fatto che le imprese hanno sicuramente necessità di essere supportate da percorsi di innovazione per i quali la capacità di sviluppare ricerca, di scoprire cose nuove su tanti possibili campi è fondamentale e da questo punto di vista rafforzare la collaborazione con l'università è importantissimo. Lo sportello imprese non è solo un servizio informativo ma un vero e proprio punto di riferimento per le aziende che vogliono innovare e crescere. Ci sono sempre stati bandi europei, chiaramente non è semplice capire come attivarsi per cui uno sportello cade in un momento proprio particolare. Chi va a sapere se c'è un bando o a sollecitare un bando? Allora siamo noi che magari entriamo all'interno delle imprese, è l'università che viene sollecitata, chiaramente creando una sinergia positiva anche con professionisti del settore noi aiutiamo l'impresa a capire se quel particolare bando è utile all'impresa. Non dimentichiamo che poi molti bandi richiedono l'unione con università sia italiane che straniere come anche con imprese straniere, quindi creare una rete che vada a cogliere questi bandi dove ci sono da sviluppare delle reti penso che sia un compito molto importante di questo sportello. Verranno offerte consulenze personalizzate per individuare le linee di finanziamento più adatte ma anche assistenza nella preparazione delle domande. L'accesso allo sportello è libero e le aziende interessate possono usufruire del servizio presso l'Ateneo.